L'importante è che nel momento del contratto ci siano tutte le parti, perché quello è un altro gioco, è esattamente questo, è un altro momento dove acquirente e venditore si incontrano, forse per la prima volta, e comunque sia in posizioni differenti. E là dovremmo essere molto bravi a creare quel clima disteso, cordiale, di reciproca fiducia e perché no anche reciproca simpatia che più facilmente ci potrà portare alla soluzione del processo.